Per le note circostanze il Führer è stato costretto ad occupare il territorio italiano e a trattare gli italiani da nemici. In base alle convenzioni internazionali l'arma dei carabinieri è considerata un istituto di polizia ed è quindi libera di svoggere il suo compito limitandolo però esclusivamente ad azioni di polizia. Ai carabinieri noi chiediamo una leale collaborazione. Mi auguro che nessuno compiatti ostili. Gli ordini di rappresaglia sono duri. Per ogni tedesco ucciso verranno uccisi dieci italiani. Nessun ebreo nella zona. A me risulta che c'è un medico condotto, giudeo. E' andato via non appena il fascismo ha promulgato le leggi razziali e non se ne è saputo più niente. Lei personalmente cosa pensa del fascismo e del resto? Le forze di polizia non debbono occuparsi di politica in base alle convenzioni internazionali, signor Maggiore. Ottima risposta, brigadiere. Può andare. Platner lo accompagna. libriere. Sottotitoli.